Ci troviamo presso l'AMG Performance Center di Perugia, centro specializzato della concessionaria Rossi Mercedes-Benz, interamente dedicato al marchio AMG e al team di Formula 1 Mercedes-AMG Pedronas, sette volte di seguito campioni del mondo. Il cliente qui può scoprire i modelli AMG, configurarli, provarli su strada, oltre che trovare un vasto assortimento di merchandising interamente dedicato al marchio. Scopriamo oggi GLE 53 AMG Quattromatic Plus con tecnologia Mild Hybrid. Al motore benzina 6 cilindri in linea da 435 cavalli viene accoppiato un motore elettrico che eroga altri 22 cavalli e 250 newton metri di coppia extra per avere delle prestazioni di 5 secondi e 3 l'accelerazione da 0 a 100 e 250 km orari la velocità massima. L'assetto prevede cerchi AMG da 21 pollici a razze incrociate, sospensioni AMG Ride Control attive che si adattano in base ai setup di guida e alla velocità e trazione integrale Quattromatic Plus che tra le funzioni nella guida sportiva permette di aumentare ancora di più il comportamento sovrassersante di quest'auto. A livello estetico troviamo anche le pedane laterali in alluminio e la vernice bianco polare con dettagli come i doppi scarichi e l'estrattore dell'aria firmati AMG per incrementare la sportività di questa vettura. In termini di versatilità abbiamo un bagagliaio con apertura elettrica da 630 litri dotato anche di apertura con le chiavi in tasca detta Hand Free Access. Negli interni per la pelle dei sedili abbiamo pelle nappa AMG Tartufo che contrasta con i dettagli in microfibra neri. Troviamo anche la targhetta firmata AMG mentre gli inserti sono il legno di quercia antracite a poro aperto. Essendo una macchina comoda anche per le gite fuori porta o per i viaggi ha molti comfort come ad esempio i sedili elettrici con memoria riscaldati e ventilati, climatizzatore quadrizona regolabile da ogni punto della vettura, chiusura servo assistita e tetto panorama apribile elettricamente. Per avere un sound più sportivo durante le accensioni possiamo eseguire le motion start AMG. basta tenere una paletta e premere il tasto di accensione per aprire gli scarichi. Il sistema telematico è la MBUX con doppio display da 12 pollici che creano una visuale in widescreen. Alla consegna viene creato il profilo del cliente dove vengono salvate tutte le funzioni preferite. Abbiamo una grafica dedicata al menu performance dove possiamo monitorare sia il grado di accelerazione di frenata, l'erogazione della coppia e della potenza motore oltre che monitorare i consumi. Nel menu interno dedicato al dynamic select possiamo creare un profilo individuale in cui andare a mischiare i parametri degli altri profili agendo sul comportamento di trazione, la rigidità delle sospensioni e anche il sound degli scarichi. Tramite i tasti al volante AMG possiamo modificare durante la guida i vari setup di guida alternando da una guida sportiva fino a una guida in condizioni di strada scivolosa o guida in fuoristrada. Invece se voglio controllare ogni funzione specifica posso usare o il tasto al volante di sinistra o la console centrale per modificare ad esempio anche l'innalzamento delle sospensioni. Ehi Mercedes! Sì? Attiva la cinetica del sedile! Sto attivando la cinetica del sedile! La sportività non tralascia l'assistenza alla guida. Di serie abbiamo un pacchetto di assistenza alla guida per aumentare la sicurezza sia nei viaggi più lunghi mantenendo una distanza fissa dagli altri veicoli oppure per tutelare il guidatore anche nelle situazioni di guida critiche. Venite a scoprirla nell'AMG Performance Center di Perugia.